Buongiorno a tutti. Il succedersi di norme in materia di lavoro agile, quarantena facoltativa e obbligatoria di lavoratori agili ha creato non pochi dubbi interpretativi circa l'applicabilità dei vari istituti introdotti in seguito alla crisi sanitaria. Uno dei punti un po' problematici dal punto di vista interpretativo è quello riguardante la tutela prevista per i lavoratori fragili in particolare per coloro i quali non possono essere adibiti ad altre mansioni equivalenti al proprio profilo o non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. In particolare questi lavoratori dopo la liter di riconoscimento della loro condizione di lavoratore fragile vengono collocati in malattia d'ufficio per tutto il periodo in cui il medico competente ha accertato la loro inidoneità al lavoro. Per via dei vari interventi legislativi che si sono succeduti nel corso dei mesi questo periodo di malattia d'ufficio viene equiparato al ricovero ospedaliero. Ci si è chiesti tuttavia se questi periodi trascorsi in malattia d'ufficio e quindi equiparati al ricovero ospedaliero possano essere computati ai fini del raggiungimento del limite massimo di giorni di malattia cui il dipendente può usufruire nell'arco del triennio prima di vedere ridotta la propria retribuzione e poi essere collocato a riposo quindi dichiarato decaduto al servizio per superamento del periodo di comporto. Dobbiamo fare particolare attenzione su questo punto perché in realtà il legislatore nei vari interventi che si sono eseguiti nel tempo non ha espressamente escluso la computabilità di questi periodi ai fini del raggiungimento del periodo di comporto. Pertanto deve ritenersi che trovino applicazione nel caso della scuola le disposizioni di quell'articolo 17 del contratto collettivo 2006-2009 che prevedono il computo dei periodi trascorsi in malattia compresi i periodi di ricovero ospedaliero ai fini del raggiungimento del limite massimo di assenze per malattia. Tuttavia dobbiamo stare attenti perché comunque per determinate ipotesi i giorni trascorsi in ricovero ospedaliero dei hospital non sono computabili ai fini del raggiungimento di questo limite per i casi di patologie gravi che richiedano terapie invalidanti o parzialmente invalidanti le cosiddette terapie salvavita. Infatti per queste ipotesi che riguardano ovviamente non solo i lavoratori fragili ma anche i lavoratori fragili non si applica il computo di queste giornate trascorse in ricovero anche in the hospital ai fini del raggiungimento massimo del limite di giorni di malattia. Quindi vedremo come l'amministrazione si comporterà per il trattamento di questi lavoratori collocati in malattia d'ufficio perché ci prevengono numerose segnalazioni da tutta Italia di docenti e personale ATA che stanno già vedendo le trattenute sulle proprie buste paga perché hanno accumulato parecchi giorni e mesi di malattia. Arrivederci. Grazie a tutti.